Francesco Casella, il ritiro volge al termine. Quali sono le impressioni anche sul gruppo che si sta via via formando? Le impressioni sono buone. Stiamo creando un buon gruppo, poi piano piano diventeremo sempre più uniti. Questo è importante perché è alla base per poi poter discutere un ottimo campionato. Una piazza molto ambiziosa, una società seria importante. Che cosa ti aspetti da questa stagione? Mi aspetto che vi fai un ottimo campionato, che la piazza ci sostenga dall'inizio alla fine. Per ora pensiamo a completare questo ritiro nel migliore dei modi, a fare il gruppo e poi vedremo quello che succederà. Che cosa ti ha convinto a scegliere l'Aquila? Io ero già stato contattato, se così possiamo dire, a gennaio e quando ho saputo della richiamata non ci ho pensato due volte. Sapevo di quanto è gloriosa questa piazza, di come merita altre categorie e ho subito accettato. Facciamo un saluto ai tifosi che già vi stanno seguendo con molta passione anche in ritiro. Un saluto ai tifosi, ci vediamo allo stadio Gran Sasso e un abbraccio. Grazie. Grazie. Grazie.